C'è un'italiana nello spazio, si chiama Samantha Cristoforetti, è da qualche giorno sulla Stazione Spaziale Internazionale e la prima cosa che ha detto quando è arrivata è stata da quassù è tutto molto più bello anche rispetto a quello che avevo sognato. E voi da qua giù, vi siete mai fermati a guardare le stelle? E se sì, che cosa avete pensato? Grazie